L'istituto dell'affido familiare è complesso, forse più dell'adozione, ma è ancora poco conosciuto. Non tutti sanno come si possa diventare una famiglia affidataria, accogliendo così nella propria casa bambini e ragazzi che sono stati allontanati dal loro nucleo familiare originario. Per parlare di affido quest'oggi, l'ambito territoriale sociale 21, il comune di San Benedetto e l'Asur Marche 12-13 hanno organizzato la giornata di promozione dell'affidamento familiare presso l'auditorium comunale. Una giornata di convegni e dibattiti iniziata quest'oggi con lo spettacolo 1-2-3 stella, cura del teatro Prova di Bergamo e proseguita con gli interventi del direttore dell'Asur 12, Giuseppe Petrone, e di Vincenzo Luciani, responsabile dei consultori familiari di zona. A lui abbiamo chiesto quali sono i requisiti per poter accogliere un minore. L'affido significa che un minore che incontra difficoltà educative all'interno del proprio nucleo familiare, nel nucleo familiare originario, viene allontanato momentaneamente da questo nucleo familiare per essere inserito all'interno di un nucleo familiare affidatario, che può essere composto da una famiglia con o senza figli, può essere composto da una coppia non necessariamente sposata, può essere composta da single. Queste persone devono seguire corsi e far colloqui nei consultori, per essere considerate poi idonee per far partire le pratiche per l'affido. A tal proposito, l'organizzatore del convegno, il consigliere comunale, Fernando Palestini, ha ufficializzato l'istituzione di un albo di famiglie affidatarie. L'istituzione dell'albo delle famiglie affidatarie va in questo senso, proprio perché chiunque volesse, famiglie, anche singoli, possano in qualche modo fare riferimento al Comune San Metto d'Altronde, servizi sociali oppure all'ambito e in qualche modo dare il proprio nominativo per aderire a questo albo, affinché così possiamo dare delle risposte concrete ai tanti ancora oggi bambini in difficoltà. C'è da dire che il Comune San Metto nell'ultimo anno ha raddoppiato il numero degli affidi, attualmente sono 16 gli affidi di cui noi siamo a conoscenza, ma sicuramente ce ne sono tantissimi altri che vengono fatti dal vicino, da un parente e noi vorremmo veramente riuscire a mettere in rete, riuscire a creare una sinergia insieme al volontariato sociale e insieme a tutte le forze che lavorano per risolvere questo problema. E allora benvengano i convegni e le iniziative come quella di oggi, che fanno luce su una realtà poco conosciuta ma che si sta diffondendo fra tante famiglie, grazie anche all'esempio di alcuni personaggi famosi. Una su tutti è Luciana Littizzetto, l'irriverente attrice torinese infatti da un anno ha in affido due minori, un maschio di 11 anni e una femmina di 14.